Ehi c'è a tutti, bentrovati! Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy, vita da studente. Nello scorso video siamo entrati all'interno del razzo distruzione EX e abbiamo fatto piazza pura dei nemici e abbiamo sconfitto anche Riegel, la sua seconda forma, e anche Lupo Oscuro che è tornato più potente che mai, ma in realtà era una mezza calzetta. E dobbiamo fermare il razzo vero e proprio perché si sta per schiantare sulla terra. Quindi, Emma, dici cosa c'è da fare? Per fortuna le barriere che abbiamo eretto prima stanno funzionando. Purtroppo però non credo che potranno resistere ancora a lungo. Per questo dovrete ritornare all'interno del razzo e fermarne la corsa. Stavolta tuttavia ci sarà Mazra in persona ad aspettarvi. In altre parole, è giunto il momento della battaglia finale. Siete pronti? Grazie all'aiuto di Emma e Zazzle, il missile distruzione EX ha rallentato la sua corsa, ma ora ci aspetta l'ultimo confronto con Mazra. Andiamo a salvare l'universo! E sfera sacra come ricompensa. Let's go! Ohoi! Inizio missione! Eccoci qua! Non possiamo neanche metterci le scarpe per volare. Oh no! Un'altra volta questi! Ma basta questi! Ed io potrei anche evitarli, credo? Mi mena e mi ricarico punti salute? Bene! Quindi li perdo ma li guadagno. Vabbè, comunque... Sì, sì, ciao, eh... No, no, non mi interessa starvi a combattere, vi schippo tutti. Eh, perdi un po' di punti! Eh, non mi interessa. Astronauta... Questo è forte, questo è nuovo! Ci darà del filo da torcere? Invece no, me la abbatto... Me la do a gambe di carriera poi. E... Dobbiamo arrivare qua. Bene. Non servivano tutti quanti quei nemici. Eccomi qui, finalmente. Ero stufo di aspettare. Ma quello è... Mazera! Eh, è incredibile che siate riusciti ad arrivare fino a questo punto. Negli ultimi tempi ho ingruttito migliaia di pianeti assorbendone i poteri. E tutti i popoli conquistati si sono inchinati a me senza problemi. Ma voi, perché cercate a tutti i costi di ostacolarmi? I vostri atteggiamenti, la vostra determinazione, mi danno sui nervi. Ecco perché vi eliminerò, così come ho fatto con gli altri pianeti. Puoi scordartelo, non ci faremo sconfiggere da te. Esatto, saremo ad eliminare te, vedrai! Hm, e come pensate di vincere contro qualcuno come me? Ultimamente ci siamo allenati molto, e ora possiamo competere con chiunque. Vi siete allenati, hai detto? E quanto esattamente? Anzi, fate così, non rispondete a questa domanda. Mi rispondo da solo. Vi siete allenati, ma non servirà a nulla. Che cosa? Ti diverti a prenderci in giro, eh? Allora lascia che ti dico una cosa. Noi proteggeremo la nostra accademia e salveremo il nostro pianeta, la Terra! Ma che... che cos'è questo potere? Non c'era niente di simile nei miei dati! Bene, G-Bastiano, è arrivato il momento! Vicepreside, che cosa ci fa qui? Hm, che cosa intendevi dire prima? Te lo spiego subito. Come tu attingi a buco nero per rafforzarti, anche G-Bastiano può contare su una fonte di potere inesauribile. Cosa? Quando sei arrivato sulla Terra, hai distrutto Yokai World. Credo che quello fosse il primo parso verso una delle sue solite invasioni. Tuttavia, le anime cagnentasti quel giorno non perirono. Ognuno di loro, infatti, si reincarnò nel corpo di altri esseri viventi. Io mi ritrovai alla Yokai Demia e iniziai ad addestrare i possessori della FNY. Si tratta di individui in grado di assorbire l'energia degli Yokai o Tenebrosi, per trasformarsi in eroi e far rivivere Yokai World una volta per tutte. E ora, il potere degli Yokai sta per scatenarsi su di te. Proprio in questo momento, infatti, si sta accumulando dentro G-Bastiano. Non è possibile! Come diamine è potuto succedere! Quando ho controllato non c'era alcun Yokai World sulla Terra! Eh, non hai capito niente, Mazra! Io invece ho capito tutto! Dentro di me si sta accumulando un potere mai visto prima, te l'assicuro! Mi dispiace, ma continuo a non capire il tuo ragionamento. Oh, è molto semplice. Vedi? Il mondo che mi dà potere... ...è proprio qui! Eh? Proprio così! È vero, di preciso non so di che cosa mi stia succedendo, ma sento che un nuovo mondo sta nascendo dentro il mio corpo! Esattamente! Hmm, un mondo all'interno di un essere umano? Impossibile! Oh, invece è possibile. Grazie alle manipolazioni spazio-temporali di Arco Felino, l'avevo sigillato nel terzo monolite Y e scisso nelle sue tre componenti. Stai dicendo che quei tre yokai riportati sulla mia ricerca? Esatto. A quanto pare hai trascurato un dettaglio non da poco. Così facendo, infatti, hai dato vita all'essere più potente di sempre. Hmm, questo non significa che possiate sconfiggermi, però. Ah, questo lo vedremo subito! Ah! Hai ottenuto la medaglia trasformazione del condottiero cosmico! Coraggio, yokai di yokai world! Concentrate tutto il vostro potere! Forza! Trasformazione! Condottiero cosmico è qui! Salverò la terra dell'oscurità! Avverto un potere incredibile provenire da G. Bastiano! Un potere mai visto prima! La nascita del re più forte in un momento così decisivo! Wow! Splendido! Ora siamo ancora più forti di prima! Eh, sembra che la situazione si sia completamente ribaltata! Sì, lo ammetto. Vi siete rinforzati. Anch'io, però, ho una sorpresa per voi. Proprio così! Non siete gli unici ad aver acquisito un nuovo potere! Non ci fai paura, Mazera! Non ci piegheremo mai al tuo volere! Esatto! Siamo il foro della speranza per tutta la popolazione terrestre! Amici yokai! Se mi presterete il vostro potere, annienteremo questo alieno! Proprio così! È il momento di dare inizio al tuo ultimo ballo, Mazera! Mi pare di capirti non avere scelta! Non fa niente! Vi schiaccerò, terrestri! Potete lottare quanto volete, terrestri! Ma non riuscirete mai a fermarmi! Io accetto tutto, ma non quella bocca di Mazera! È disgustosa! Cosa cavolo avevano in mente quando l'hanno fatta? Ma sono matti! Wow! Quello fa male, eh! Aia! Fa male anche lui, però! Eh, fa malissimo lui, sì! Se riuscissi a liberarmi sarebbe meglio! Oh, allora! Fammi mangiare! Ma lo prendo? Non ne ho idea! Fa solo che mi fa tantissimo male lui! Eh, che cos'è? Ohioi! Ah, quello... Ah, quello proprio prende il solido! Ok, quindi non importa chi colpisce, ma... Si ferma comunque! Va bene! È giusto, è giusto! Lo accetto! No, ho spiegato quello forte! Ma è ambito dopo quell'altro, che era da 800! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene! Non è un problema, dai, ce la facciamo, dai! Buono, non male! Ah, però, Rosa, attenta! Ok, modalità berserker! Sta andando meglio di quanto mi aspettassi, a dire il vero, eh! Molto meglio, perché Rosa colpisce da lontano! Fa male! Noi facciamo pure male! Se però stiamo attenti a non farci colpire, eh! No, dove è andato? Ah, si sposta? Si sposta il tatino! Ah, però ok, l'ho beccato! Ah, perché gli ho puntato contro il coso, certo! Non c'è puntatore, probabilmente! Una delle poche volte che il puntatore funziona! Come l'ho evitato? Scusami! Oh, 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 oh! No, 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 no! Mangia, mangia! Accipicchia! Se vado cappò è un problema grave, eh! Se vado cappò è un grave problema, è un grave problema! Eh, vabbè, allora! Eh, sprecato! Combatti me i combatti! Non è vero, scherzavo, scherzavo! Fammi ricaricare prima, fammi ricaricare! Berserker! E attacco! Sì, però, allora, lui contraattacca pure, eh! Cioè, nel senso, Mazera! Dammi tregua! Eh, capisco che ce l'hai con me per qualche ragione, però! Fai il bravetto, su! Punta a me, punta a me ora, bravo, punta a me ora! Bravissimo! Bravi! Bravissimo! Un po' meno, un po' meno, un po' meno! Bravo! Bravo, ok, ok, così! Bravo! Bravo! Bravissimo, Mazera! Wow, quell'attacco è impossibile, eh, ragazzi! Non si para neanche se lo paghi, eh! Oh, bene, 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 bene! Che paura! È andata bene! Eh, eh! Eh, sì, mi facevo prendere un'altra volta, no? L'ho visto che lo preparavi, dico, mi sposto! No, era scomparso mentre ho attaccato! Unlucky! Allora! Eh, questo però lo prendi, eh! In faccia proprio! Ora pure questo, guarda un po'! Ok! Ehi! Ah! Matteo? Matteo, 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 Matteo! Grazie, Matteo! Ah, non ho più quell'altro, ok! Ok! Ragazzi, ora potete fermarlo, voi che siete trasformati, eh! Mo' non è per dire nulla, ma... Lo devo stare così ad aspettare! Quindi Mazzara ci combatte direttamente con la sua forma incredibile! Ok! Ok, Rosa è rianimata! Però ragazzi, dovete mangiare, voi! C'è l'avete il cibo, mangiatelo, no? Mangiatelo che ce l'avete il cibo! C'è l'avete il cibo! Eccola là, e infatti... Qua, Rosa è andata? Sì, anche Rosa è andata! Aia! Questo non l'ho visto proprio arrivare! E ora devo finirlo! Eh, andava fatto rivedere il cibo, Kumaro, dai! Condottiere cosmico! Mi ha sprecato quello, ok! Ho sottovalutato la città! No, perdo! Perdo, mi sa! Perdo! Eh, così è andata! Ho perso! Allora, stavolta è stata molto più facile! Non so per quale ragione, ma è andata così andata! Molto più semplice! E... Tombola! Eccolo qua! Maserabolt o Maseralampo sconfitto! Wow! Questo è forte, eh! Dannazione! Ce l'abbiamo fatta! Ahahahah! Non credo proprio! Mi sta solo scaldando! Che cosa intendeva dire? Non starà dicendo che... Oh no! Guardate là! Che cosa intendeva dire? Ma avete visto quanto è grosso? E non è tutto! Sembra che abbia un potere inarrestabile! Se attaccaste il razzo per noi sarebbe la fine! Già, speriamo che non abbia intenzione di farlo! Se vogliamo batterlo dovremo prepararci a dovere! Forza! Ben detto! Non nienteremo! Vedrete! Il problema è solo uno, amico mio! Come ci prepariamo a dovere se siamo bloccati qui? Sì, tutti i cibi! Vabbè, è uguale! Non importa! E il livello è quello che è! Però abbiamo un'esfera sacra da poter utilizzare! Che poi in giapponese si chiama palla sacra! Ma comunque... Beh, G-Bastiano è al 412! Quindi penso che Valerio se la meriti tutta! E non ne ho altre! Che bisogna fa, amici miei! È così! Volendo posso andare indietro? Non credo, vero? Eh, figuratevi! Va bene! Direi allora che per questo video è tutto! E nel prossimo finisce Yo-Kai Watch Academy! È un percorso durato... 4 mesi, più o meno, da febbraio? Insomma, c'è stato un bel po' da fare! Mazera... Ci ho perso! Non mi aspettavo di perderci! Devo essere sincero! Mi aspettavo di vincere! Perché ci sono arrivato più preparato dell'altra volta! Invece no! Ho perso! Ma perché ho sbagliato a ricaricare una volta! Infatti non ho fatto lo stesso errore stavolta! E ho vinto! Guarda caso! Eh, ma tutto... Tutto sicuramente... Casualità! A ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo video! In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare! Se vi va! E ci vediamo! Ovviamente! Prossimo video! Ciao! Ciao!